Gli investimenti per oltre 13,4 miliardi sono destinati a potenziare la mobilità al fine di rendere la Calabria più connessa, moderna e competitiva. Inoltre sono previsti 3 miliardi per la modernizzazione della statale 106 Ionica, con particolare attenzione alla salvaguardia del porto di Gioia Tauro, riconosciuto come una delle piattaforme logistiche più cruciali del Mediterraneo e dell'Europa. Questo porto è considerato essenziale per lo sviluppo del sud e dell'intero paese. Questi sono stati i principali temi discussi durante un incontro presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tra il Ministro e Vice Premier Matteo Salvini e il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Filippo Mancuso. L'occasione ha permesso a Mancuso, in qualità di rappresentante del partito, di informare Salvini sul ruolo prezioso svolto dalla Lega durante i due anni di legislatura regionale e di presentare i progetti futuri, contando sull'impegno del Ministro e del Governo per assicurare prospettive di sviluppo alla regione. Filippo Mancuso ha anche sottolineato la piena condivisione dell'infrastruttura del Ponte sullo Stretto, progetto che, una volta realizzato, conferirà centralità strategica internazionale alla Calabria e alla Sicilia. Questa trasformazione è vista come un'opportunità per convertire la marginalità economica e sociale in sviluppo sostenibile e crescita sociale nel mezzogiorno. Al termine dell'incontro, il presidente Mancuso ha evidenziato il tradizionale scambio di auguri con il ministro Salvini e ha ringraziato quest'ultimo per l'attenzione speciale dedicata al Sud, in particolare alla Calabria, mettendo a disposizione risorse che in passato sembravano inimmaginabili.